Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo città, siamo città. Presidente onorario, nato dalla Chiesa, come voi sapete è una suggestione che si batte, si è sempre battuta e ha lavorato per sensibilizzare tutti su questo tema importantissimo che è la lotta contro le mafie. E' una manifestazione importante, devo dire che non credevo che ci sarebbe stata tanta gente, perché Milano non è abituata a reagire a queste intimidazioni, perché non abbiamo un allenamento a capire, a valutare la gravità di quello che accade. Quello che è accaduto è gravissimo, tutti si rendono conto del salto di qualità, non c'è stato un bar privato che è stato incendiato, che già è fatto grave, ma c'è stata una struttura pubblica del Comune che è stata data alle fiamme quasi con la firma e questo senso di impunità, di aggressività, di tracotanza è stato condannato con questa manifestazione. sentire i bambini che dicono fuori le mafie dai nostri quartieri può sembrare ascoltare un atto di ingenuità, però credo che sia una cultura che si sta costruendo di ostilità sociale nei confronti delle organizzazioni mafiose. non c'è aria, non c'è aria per voi! Non ci sono bar dove potete riunirvi per pianificare estorsioni, non ci sono posti pubblici nei quali potete tranquillamente parlare e programmare i vostri delitti senza che la gente non se ne accorga. Siamo qui con gli occhi puntati, abbiamo capito qual è il livello della minaccia e dell'intimidazione, è il Comune l'obiettivo di questa intimidazione, è la struttura pubblica, è l'amministrazione e non potremmo non rispondere. L'amministrazione ha fatto benissimo il Consiglio di zona, ha fatto benissimo la Presidentessa, ha fatto benissimo, non lo devo dire io, ma sta nella riuscita della cosa, ha fatto benissimo i partiti uniti a reagire, a far capire che non c'è nessuno che sia disposto a chinare la testa o a prendersi un voto in più da parte delle organizzazioni criminali. Questa è una grande risposta e Libera sarà sempre accanto a coloro che si mobiliteranno per difendere Milano e tutte le aree di Milano e tutte le zone di Milano non dall'infiltrazione, perché ormai non si tratta più di infiltrazione, ma dalle pretese mafiose di ottenere dei vantaggi e di poter intimidire liberi cittadini e libere istituzioni. Ciao Vincenzo Ciao Vincenzo